Il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani incontrerà Lascoli in trasferta. Corini potrà contare su Di Francesco. Marco Gullà. Pochi dubbi e tante certezze, nonostante qualche giocatore infortunato, la strada che porta verso Ascoli è in discesa per il Palermo. Per il match di domani alle 14 contro i bianconeri allo stadio del Duca, Eugenio Corini dovrebbe affidarsi per 10 undicesimi alla formazione che ha battuto 3-0 la Feralpi Salò, con l'unica variazione in avanti dove non giocherà Insigne, ancora alle prese con l'infortunio all'aduttore, ma ci sarà Di Francesco dal primo minuto. In porta giocherà Piaceli, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Matteo a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Aurelio a sinistra, con Liumde che scalpita per entrare a gara in corso. A centrocampo il mediano sarà ancora Stules dopo la grande prestazione fornita contro la squadra di Vecchi. Al suo fianco è Anderson a destra e Segre a sinistra, occhio però a Coulibaly che in settimana si è allenato molto bene e potrebbe insidiare le scelte di Corini. In avanti, come detto, spazio alla Didi di Francesco a destra e Di Mariano a sinistra, al centro dell'attacco Brunori, ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato. Soleri partirà dalla panchina, ma è pronto ad incidere a gara in corso. Il fatto che l'Ascoli, è vero che la prima partita a Cosenza ha avuto parecchie espulsioni, dunque è stata una partita di un certo tipo, dove il Cosenza tra l'altro l'aveva sbloccata nel primo tempo. Le altre partite, anche a Modena, che il Modena aveva visto che inizia il campionato, comunque hanno perso 1-0, hanno avuto occasioni per pareggiare. Con la Feralpi hanno fatto una partita importante e tra l'altro l'hanno fatta in casa, partendo in maniera molto aggressiva. Dunque mi aspetto una squadra che vorrà aggredirci, che vorrà provare a spingere la partita in una direzione per passare in vantaggio. Noi dobbiamo essere bravi e a volte si difende bene anche col controllo del gioco, di Cosenza a parte quando ce l'hanno gli altri, quando abbiamo la palla, la capacità di leggere quando potremo contrattaccare rapidamente o quando invece dobbiamo consolidare un palleggio per stemperare e romper il ritmo della squadra avversaria e su questo, in queste due settimane, abbiamo lavorato. Ci ha preoccupato la relazione della direzione antimafia sulla capacità di Cosenostra, ancora viva, di attrarre i giovani. Ma come ci siamo chiesti? Dopo le stragi, le minacce, i soldi rubati con il pizzo, la gente rovinata, la corruzione e soprattutto la potente attività di contrasto delle forze di polizia e della magistratura, cosa nostra è ancora attraente per i giovani? Una risposta convincente ci è arrivata a Buongiorno Sicilia da Maurizio Artale, che avete visto anche poco fa nel nostro Tg. Lui è il Presidente del Centro Padre Nostro, fondato appunto da Don Puglisi a Brancaccio. Il fascino in che consiste? Nei facili guadagni, a cominciare dai ragazzi che fanno le vedette nelle piazze di spazio. Si comincia da lì, segue la china verso il crimine e i clan. L'alternativa? Le commemorazioni delle vittime di mafia, ci ha detto Artale, pure importanti, purtroppo non bastano. Occorre un lavoro concreto, dei volontari, tutti i giorni, paziente, convinto, nei quartieri. Non c'è bisogno delle ovvietà, dell'antimafia di maniera da televisione e da social. Occorre un lavoro che coinvolga anche i ragazzi figli di detenuti per mafia. Il Centro Padre Nostro, per esempio, accoglie quotidianamente i bambini più piccoli, con famiglie naturalmente senza disponibilità di babysitter, che d'estate adesso vanno in colonia nelle scuole dei sottofficiali di Firenze e Roma. Mentre per i genitori detenuti in esecuzione penale esterna, lì ne accolgono 200 all'anno, c'è un lavoro proprio al Centro Padre Nostro. E per quelli estracomunitari c'è la casa del figlio al prodico per apprendere un mestiere. Chi vive a rischio con la trasgressione come modello, solo così impara che c'è altro oltre il sopruso e la violenza. E questo sforzo andrebbe fatto ovunque per sottrare acqua ai pozzi della cultura mafiosa. La conferma? Quando hanno saputo dell'orribile stupro di gruppo al Foro Italico, i bambini del Centro Padre Nostro hanno reagito arrabbiandosi. Chiamiamo la polizia, hanno detto. Anni fa avrebbero urlato, diciamolo a Ziotano, ci pensa lui a dare una lezione a quei vigliacchi. Altro che sentinelle affascinate e sfruttate dagli spacciatori. Ci fermiamo qui, Ticicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.